Buongiorno, com'è la situazione? Non bene, abbiamo un treno in Italo da prendere, non sappiamo ancora se il treno è già arrivato, se è ancora bloccato a Verona, non possiamo contattarli perché è tutto a pagamento e il sito è messo fuori. Dove va? A Roma. Se ci va? Se ci arriviamo, adesso hanno aperto le portiere e ci hanno fatto scendere, vedremo. Ecco, da quanto siete fermi qua? Da qua saremo fermi da un 40 minuti, ma ci siamo fermati prima a Bologna per un paio d'ora, l'odissea stamattina. Lei è partito da Milano alle 6. Doveva essere già abbondantemente a Roma? Da un'ora e mezza. Che treni le si prospettano? Ah, non lo so. Il primo che passa? Il primo che passa, credo verso le 11 dovrebbe passare. Oh, I'm watching Netflix. Netflix. Oh my gosh. Ok. Thank you for telling us. You're the first to let us know. Grazie.